bene ragazzi ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a capire quanto può durare questa fase di bull del cripto questa fase di pump del cripto Nasdaq ha toccato il livello di resistenza più importante lo vediamo oggi poi andiamo a vedere quelle che sono invece le super cripto per le prossime due settimane quelle che possono fare il bu 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 perché andremo a rianalizzare quelle che abbiamo visto già la scorsa settimana che ci hanno dato grandi soddisfazioni, i ragazzi Waves, Rune hanno fatto i botti veramente, poi abbiamo Near che nuova entrata, sta performando molto bene, andiamo a fare la classifica delle altcoin, un'occhiatina ad ETH, quali sono i punti chiave di questa prossima fase che dobbiamo andare ad aggredire e tutto in questo video veloce 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 ragazzi perché sarà un video abbastanza breve perché devo scappare quanto stiamo per andare a Maievi con il cartello cripto, quindi vi voglio sui miei canali social, quelli un po' più alternativi, no YouTube Telegram, Twitter e Instagram ragazzi dove pubblicherò delle storie che magari vado a fare con il mio iPhone quando sarò in giro un po', ragazzi non l'ho mai fatto, non so fare il vlog, però ci proviamo eccetera anche perché saremo con gli altri youtuber del cartello e quindi facciamo un po' di macello, un po' di in giro scherzi a parte, poi vi condivideremo anche qualche contenuto magari della Bitcoin Conference 2022 cercheremo appunto di farci regalare qualche Bitcoin per tutta Italia dai partecipanti soprattutto dal presidente di El Salvador allora va bene ragazzi andiamo a vedere quelle che sono un po' questa fase, ragioniamo intanto sulla questione del tempo allora fase di ripresa, nuovo semestrale per Bitcoin e le altre criptovalute, cripto del settore della DeFi Total Market Cup ha fatto un bel boom si avvicina al doppio massimo molto importante, l'abbiamo visto lunedì andatevi a vedere tutti quanti il video di lunedì perché è straimportante molto più dettagliato di questo qui ragazzi però andiamo a cercare di capire quanto può durare la questione per ragionare su questa cosa qui andiamo a prendere un grafico che è non cripto cioè Nasdaq ma poi subito dopo ragazzi vi faccio vedere le super cripto per le prossime due settimane quelle che possono secondo me fare un buon pump vedremo anche TH che ha un grafico che sembra praticamente disegnato allora il primo grafico che vediamo oggi è quello di Nasdaq ragazzi e la questione è legata al Nasdaq perché secondo me la correlazione legata a Bitcoin che nell'ultimo periodo ha continuato ad esserci ragazzi anzi adesso vi faccio vedere anche il grafico allora non abbiamo il grafico contro Nasdaq perché non riesco a reperire i dati abbiamo quello con S&P 500 con Nasdaq che è maggiore di S&P 500 ragazzi quindi giusto per farvi capire questa è la questione legata al tasso di correlazione con i mercati old che abbiamo con le criptovalute dopo il 2020 e in sostanza da qui in poi che c'era la questione Covid vedete come è decollata in pratica poi abbiamo avuto una fase invece di ritorno alla naturalità quindi nessuna correlazione e adesso sembra di nuovo essersi ripresa con questa super correlazione con i mercati 0.4 non è un tasso di correlazione elevatissimo per quanto riguarda i due asset finanziari un tasso di correlazione molto elevato è 0.8 in su 0.4 è una semi correlazione ma non è nemmeno una non correlazione che è 0.1 e intorno che va bene ragazzi quando oscillava in pratica in questa zona qui il mercato quindi tutti gli anni precedenti vedete in questa zona non era un tasso di correlazione da qui in poi sì se dovesse tra l'altro continuare a salire sì sarebbe una correlazione praticamente molto più evidente ancora di più quindi ipotizziamo che anche nell'arco dei prossimi settimane prossimi mesi questa correlazione potrebbe continuare quindi facciamo analisi ciclica sul Nasdaq perché sul Nasdaq noi ce la riportiamo con questione temporale su come può cambiare su Bitcoin quindi andiamo a vedere poi quanto può durare questo rialzo in base propria alla durata di Nasdaq tutto il gioco sta sulla questione dei cicli annuali di Nasdaq perché se Nasdaq 100 che per chi di voi non lo sapesse sono le 100 aziende più capitalizzate nel settore tecnologico del mondo più o meno occidentale la finanza occidentale ma anche un po' quella diciamo filo cinese e company allora qui c'è un problema due cicli annuali intanto Nasdaq ha una problematica ragazzi a differenza delle cripto non resta aperto il weekend quindi i cicli sono differenti potremmo anche considerare 200 giorni come cicli di natura in pratica annuali comunque noi ci teniamo allo standard qui la questione è questa ragazzi se siamo su questa struttura ciclica e quindi siamo su un nuovo annuale allora Nasdaq ha fatto questa struttura così e quindi abbiamo 3,45 e circa 3,78 quindi abbiamo un nuovo annuale da qui se questo è vero quindi due cicli annuali standard molto simili all'anno solare quindi un classico insomma niente di che se questo è vero purtroppo perché vi dico se ragazzi perché visto il pumping che è stato fatto le banche centrali con l'emissione di liquidità che ha mandato in bolla i mercati classici i mercati old dopo la pandemia allora non si capisce dove è la fine del ciclo annuale perché in pratica è stato totalmente pilotato dalla banca centrale americana e quindi non si sa dov'è perché in questa metà non c'è nessun minimo sotto neanche a questa media che è la media più importante che ci poteva dare un'indicazione accettabile oggettiva di quello che poteva essere un ciclo annuale quindi dobbiamo andare in pratica a spanne ragazzi allora qual è la questione se il ciclo annuale di nasdaq è stato chiuso qui invece cioè è durato molto molto di più allora questa zona potrebbe essere una struttura già ribassista perché vi dico questo allora se non si vede la metà del ciclo annuale e siamo e abbiamo chiuso per esempio in questa zona qui quindi a 400 più o meno il precedente era 455 era molto lungo rispetto allo standard allora qui ragazzi siamo a 294 vuol dire che qui ancora dobbiamo andare in chiusura e probabilmente lo faremo a settembre quindi sono due logiche diverse da una parte abbiamo una possibile fase di ciclo annuale già conclusa dall'altra abbiamo un annuale ribassista non c'è nessun modo di uscire da questa questione se non fare delle ipotesi personali ma non riusciamo a vederlo nei dati questo è il problema di fondo quindi non riusciamo ad avere un'indicazione oggettiva che è insomma accettabile dal punto di vista proprio di analisi matematica e quindi qui bisogna fare una serie di ipotesi se prendiamo per buona quella che è la struttura a due cicli annuali già conclusi allora a questo punto ragazzi qui siamo sul nuovo annuale di nasdaq questa è l'unica soluzione per avere una fase rialzista più importante nelle prossime settimane prossimi mesi aprile maggio soprattutto nelle cripto quindi vai passando adesso il discorso della ciclica che poi questo si vedrà ragazzi si vedrà come se nasdaq supera questo massimo allora da qui è iniziato un nuovo ciclo annuale al 100% quindi questo è il primo dato che ci servirebbe se invece nasdaq fa solo il rimbalzino del gatto morto che più o meno usando i classici livelli di fibonacci potrebbe avvenire a breve ragazzi perché rimbalzo del gatto morto dovrebbe essere in questa zona proprio sopra queste livelli che ha toccato in questo momento intanto è sulla mia media mobile a 26 periodi quindi la più importante è la media mobile del semestrale questa è la zona intorno ai 15.000 e 5 che 15.000 e 5 16.000 che può indicare il famoso rimbalzo del gatto morto quindi entro pochissimo e inizieremo ad avere delle risposte mese di aprile quindi prima decada del mese di aprile attenzioniamola ragazzi per una serie di motivi dopodiché si se ne parla io credo che i mercati cripto abbiano spazio di fare un po' di pump fino all'intero aprile anche i primi primi di maggio diciamo quella zona di maggio dall'in poi il gioco si fa duro e dipenderà appunto da questo grafico quindi se da qui stiamo sul nuovo annuale probabilmente allunghiamo tutto e la cosa è molto buona poi ricordiamoci che però l'annuale lo deve chiudere anche bitcoin quindi il problema c'è di fondo se andiamo a vedere per esempio quello che è il ciclo della total market cap della DeFi che invece è molto interessante perché ha una struttura ciclica con un annuale ancora rialzista fortemente rialzista perché ha fatto dei minimi crescenti quindi questa zona qui potrebbe ancora arrivare qui a fare un nuovo massimo prima di chiudere il ciclo annuale quindi total market cap della DeFi guardate la M di Mauro M di Mauro di McDonald's avrò avrò facciamo di McDonald's io preferisco di Mauro ragazzi Donald si va già che uno schifo dai vabbè scherzi a parte va bene allora questa zona qui potrebbe ancora spingere e dov'è questa struttura vedete proprio a livello temporale nella fascia tra fine aprile e la prima decada di maggio questa zona qui questa è una zona che mi interessa tantissimo per a livello temporale poter raggiungere il massimo del ciclo annuale delle cripto e poi si vede poi si gioca la partita questo era quello che ci aspettavamo da due mesi che stiamo seguendo questa più il mercato sembrerebbe star andando a spingerci appunto in quella direzione quindi se Nasdaq ci fa il favore che da qui si sono un ciclo annuale allora possiamo spingere di più se invece questa cosa non avverrà allora poi vediamo ragazzi probabilmente vedremo saurissimi nell'arco della 15-20 di aprile un po' tutto lo ha spinta al rialzo tutte queste analisi sono estremamente visibili anche nelle criptovalute come ETH vi faccio vedere Ethereum in particolar modo guardate la questione di Ethereum che superando anche questa fase di massimo si sdlancia un pochino qui sono i livelli di resistenza che troviamo su ETH e poi soprattutto in questa fase ETH conserva un po' un andamento leggermente al rialzo in teoria essendo comunque il ciclo annuale iniziato qui ed avendo fatto un semestrale in questa zona possiamo ancora spingere sui massimi fino a qui cioè potremmo ancora vedere una cosa del genere ragazzi questa è interessante ovviamente ancora qui vedete siamo tra aprile maggio quindi nella decada di maggio quindi questa la fase temporale che dobbiamo andare a controllare si può spingere se Ethereum spinge tanto ragazzi se inizia veramente a salire facendo questi trend allora io penso che potremmo rompere questi massimi ma soprattutto la DeFi ci manda i massimi storici con la Total Market Cap quali sono le cripto che possono fare veramente il boom andiamo a vedere perché ce ne sono alcune che hanno innescato delle spirali di Azista incredibili tra le quali i ragazzi Waves di cui vi avevo parlato proprio nel precedente video e poi ci ha fatto più 100% eccola qui ancora spinge con un change verso BTC a 90 giorni di 255 punti con solo l'ultima settimana dopo il video praticamente ragazzi vi giuro non c'entra niente io ha fatto più 47% Zillica anche lei sta facendo questa grande pump questa per fortuna l'ha tradata uno dei miei training system che utilizziamo in academy ragazzi chi di voi volesse comunque i corsi sono chiusi per l'academy chiusa la riepriamo fra un mesetto più o meno un po' di meno di un mese una ventina di giorni e con i nuovi corsi ho registrato un botto di roba chi di voi vuole entrare ai prezzi di oro che sono estremamente scontrati scrivete email all'info che ho c'è training.it provate ovviamente le mail scrivete la mail e chiedete le info per entrare agli attuali prezzi che è molto conveniente allora questo è Zillica insomma anche da andare a guardare andiamo a vedere questa situazione poi abbiamo altre coin che vorrei vedere oggi tra le quali Rune che invece abbiamo fatto praticamente il trade del semestre su Rune perché è veramente incredibile poi abbiamo la solida ragazzi ma Luna Luna ancora spinge e ce la fa andiamo a vedere un po' queste crypto andiamo a vedere quelle che mi interessano di più in questa fase e che possono dare secondo me soddisfazioni nelle prossime due settimane iniziamo con Rune ragazzi perché me l'avete chiesto in tanti di fare un aggiornamento guardate che cosa ha combinato ma soprattutto andiamo a cercare di copire anche dove ci troviamo su Rune perché Rune ha questa trendline che io non uso tantissimo vi dico francamente trendline non sono una grande indicazione ma possono essere utilizzate in alcuni modi interessanti allora Rune guardate dove sta quindi si è avvicinata alla trendline questa figurazione di analisi tecnica che se breccata praticamente inverte tutta questa struttura di trend che è molto rilevante anche perché abbiamo fatto un minimo un doppio minimo il doppio minimo ha innescato questa super spirale rialzista fino di nuovo alla parte alta di questo triangolone perché alla fine poi qui abbiamo un super triangolone fatto diciamo così ragazzi poi deve unirsi ovviamente sapete i miei disegni terrificanti proprio va bene ok è questa cosa qui allora andiamo a vedere invece qual è il livello di resistenza che abbiamo in questa zona questo in primis e poi abbiamo i massimi che sono 1 e 2 questi sono i livelli di Rune che insomma sono abbastanza importanti secondo me Rune ha già chiuso il ciclo mensile l'ha chiuso qui a 28 giorni quindi siamo nel secondo mensile probabilmente attenderei però diciamo fino a tutto aprile può continuare a spingere quindi questo è veramente interessante come criptovaluta ha sbattuto ha rimbalzato sopra le mie due medie ormai uno standard di analisi che state utilizzando intanto vi ringrazio ragazzi perché io sono molto contento di darvi queste info però poi quando vedo che praticamente Venezia Italia utilizza queste medie per rendersi conto di come andare come non andare cosa fare cosa non fare sono stra contento quindi grazie a tutti quanti insomma anche per questo diciamo simbolo di fiducia che mi date ogni volta una grande grande responsabilità per me da un punto di vista diciamo morale etico però sono contentissimo e l'accolgo volentieri quindi veramente molto contento però queste due zone fungono da supporto io sono ancora in posizione da questa zona qui su rune ragazzi quindi siamo in hypergain anche in lever o molto in lever su questa coil questa potrebbe continuare a spingere ma il livello di resistenza chiave è questa zona se è rotta questa zona ci facciamo bingo ragazzi ve lo dico proprio chiaro perché poi cambia radicalmente anche la struttura quindi l'une da andare rune da andare fortemente a monitorare voglio però andare direttamente a guardare adesso la criptovaluta di luna ragazzi perché luna ha toccato nuovamente massimi storici breccando i massimi storici che erano su questo livello come vedete io avevo tratteggiato questa resistenza come una resistenza non eccessivamente importante perché una resistenza che viene toccata da un mercato poche volte come in questo caso cioè a pochi volumi sotto non ha una grande validità queste insomma ragazzi sono cose che poi insomma spiego anche nei corsi insomma ci sono tanti tanti fenomeni di microeconomia all'interno di questa struttura comunque non aveva un'enorme importanza questo livello di resistenza l'ha breccato come giusto che sia perché eravamo nel mensile in questione mensile di luna si va a chiudere intorno al 10 di 10 15 di aprile quindi ancora lo spazio c'è è in questa fase quindi qui siamo ancora nel mensile probabilmente però siamo ai massimi del ciclo mensile questo ve lo dico io non ho preso posizione su luna perché luna è in una fase che un po' mi spaventa per una serie di motivi quindi attenderei insomma ci sono criptovalute che secondo me sono meno rischiose in questo momento in termini di possibile pump perché ha dato veramente tanto quindi in questa fase ci sta che anche nell'ultimo ciclo da 150 160 giorni stia facendo nuovi massimi ma addirittura può farlo ancora una volta qui nella zona aprile maggio come gli altri perché può andare a chiudere questo mensile e poi riportarsi anche a nuovi massimi però ragazzi sembra comunque limitata la strada iniziamo ad avere una fase di mercato tirato e quindi io personalmente la faccio seguire magari a delle macchine a dei sistemi ma non sono andato personalmente ciò non significa che questa cripto non può fare i botti lo può fare ma semplicemente per me rischio rendimento gioco non vale la candela preferisco altre cripto vi ho fatto vedere waves che ha fatto numeri stellari e vi ho fatto vedere rune ve ne ho fatte vedere anche altre in questa fase le ritengo leggermente un rischio rendimento un rapporto rischio rendimento più favorevole rispetto a luna ma solo perché luna è in questa fase un po' particolare quindi tutto qui ragazzi si vede anche la struttura di ciclo che sta virando nella sua fase naturale perché vedete che i massimi sembrerebbero essere sempre più vicini e soprattutto si intravede proprio in maniera molto chiara la curva adesso io non disegno bene che è un classico di mercato tirato questo vi ripeto non vuol dire che la cripto in questione non può fare nuovi massimi anche in questa zona potrà farlo tranquillamente soprattutto se le altre spingono però io penso che se le altre spingono spingeranno di più altre cripto rispetto a luna quindi io in questo caso insomma preferisco diciamo stare un po' più attentino a questa cripto altre cripto che mi avete chiesto era Nier ragazzi Nier l'abbiamo visionata la volta scorsa e Nier interessante perché sembrerebbe sembrerebbe infatti l'ho messa in portafoglio che nell'ultimo minimo abbia chiuso un ciclo annuale qui c'è troppo poco spazio di dati per cui non abbiamo assolutamente idea se questa cosa sia vera è una supposizione perché questa criptovaluta è troppo giovane quindi non possiamo fare questo tipo di analisi in questo momento però io la seguo con una probabilità dicendo è probabile che sia stato così ovviamente non abbiamo dati sicuri come magari su bitcoin che abbiamo storico su ethereum eccetera però ragazzi un'idea generale il trader se la fa poi da lì a cambiare idea soprattutto chi ha formato chi ha formazione a sguicciare il proprio trading plan conoscendo i rischi che andiamo a mettere sul piatto non cioè è giusto così quindi ci si può fare allora i livelli di resistenza di Nier sono questi qui che vi indico quindi questa zona che è una zona più di resistenza non proprio da respingente ragazzi ma da oscillazione quindi una cosa del genere e poi abbiamo il massimo storico sopra il massimo storico al 100% qui saremo in un nuovo ciclo sicuramente diciamo almeno un trimestrale semestrale ma probabilmente anche annuale a quel punto ma qui distanzia 20 quindi è molto interessante anche questa cripto quindi se saliamo al di sopra di questa zona è assolutamente interessante la seguo da un punto di vista di analisi tecnica più che ciclica ciclica vi ho fatto vedere un quadro generale poi queste cripto sono troppo piccole come dati abbiamo troppo pochi dati vanno seguite da analisi tecnica che è più oggettiva rispetto alla ciclica da questo punto di vista quindi la preferisco in questa in questa fase andiamo a vedere le ultime due cripto che sono discordanti perché una è Ada me l'avete chiesta in tanti ho fatto un giochino perché ho voluto fare un giochino che vi mostrerò nelle prossime settimane proprio su Ada e Nier vi spiego anche perché e se va in porto vi faccio una lezione di una strategia e vi spiego lo vi faccio assolutamente non è una questa la mia faccio una lezione di strategia di trading per spiegarvi anche questa possibilità interessantissima vediamo se funziona vi faccio tutto dal vivo ragazzi perché voglio far vedere anche i risultati non parlare grafici sistemati quindi ho proprio in portafoglio un'operazione particolare su queste due criptovalute allora Ada la questione di Ada Ada o ha un ciclo annuale ribassista perché ha breccato i minimi di luglio o stiamo sbagliando qualcosa se ha un ciclo annuale ribassista questo spilungone che abbiamo visto in questi giorni ci sta tutto ma è semplicemente il rialzo del nuovo ciclo semestrale vi faccio vedere dove può arrivare perché questo è un nuovo ciclo semestrale ma significa in pratica che non avrà spazio sufficiente di attentare di invertire il trend in maniera consistente quindi può arrivare io me lo aspetto che potrebbe arrivare anche a 1.73 1.80 soprattutto se gli altri mercati spingono ma da qui in poi in teoria questo è un must sell short cioè il punto più bello della storia del mondo per fare il più grande trade short della storia a protezione allora sì è una chiamata short quella lì perché se avviene e poi andiamo veramente in chiusura annuale prossimi 2-3 mesi poi ne riparliamo di queste cose questo punto potrebbe essere shortato in questa zona perché poi se facciamo una cosa del genere questa perde del doppio delle altre e quindi ci copre anche magari il bitcoin e tante cose un trucchettino che si può fare insomma perché perché se questo è un minimo e questo è un minimo e il ciclo è ancora in corso noi non possiamo che fare un massimo relativo più basso di questo massimo relativo e poi un nuovo minimo per una questione legata al trend quindi o questa zona ha chiuso un ciclo diverso o se siamo nel precedente ciclo questa è la view di ADA quindi il problema di ADA e questa dovrebbe teoricamente essere sempre più debole rispetto ad altre cripto che invece hanno ancora un trend leggermente rialzista va bene ragazzi quindi questa è la questione di ADA me l'avete chiesto in tanti e vi ho dato il dettaglio dopodichè andiamo a vedere l'ultima cripto di oggi che è la nostra cripto.com per vedere come mai cripto.com non spinge non spinge rispetto alle altre perché non spinge perché ancora non siamo al di sopra di 0.055 che era la chiave di lettura se non saliamo sopra questo 0.055 è pericoloso perché potremmo avere un ciclo semestrale iniziato qui che già ha portato ad una fase di massimo in questo primo punto quindi assolutamente io voglio vedere cripto.com in questa zona prima della fine di aprile massimo primi di maggio nel prossimo mese ragazzi qui la voglio vedere qui dentro perché è fondamentale anche per il proseguo di questa struttura in ogni caso la seguo come Nier da un punto di vista di analisi tecnica resta nel breve un trend al rialzo che vedete qui siamo sopra le mie due medie mobili quindi queste adesso fungono da supporto al trend ma fin tanto che non brecca i 0.55 siamo in un limbo siamo un po' zombie cripto questo è il discorso perché in quella fase lì è pericoloso può succedere anche un patatrack perché abbiamo fatto un massimo qui e se per caso riprende un trend al ribasso senza aver breccato questo massimo allora poi è complicato perché dovesse fare una cosa del genere confermerebbe una struttura molto 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 pericolosa perché se fa un minimo inferiore poi brecca il minimo dell'annuale e anche questa diventerebbe come ADA quindi è importantissimo il superamento di questo livello e il posizionamento qui non ho operazioni di trading su Crypto.com o quelle da Holder perché ho la carta ho la DeFi ho l'exchange ho un botto i CRO quindi me li tengo i Kronos per tutti quei servizi non vedo un particolare pericolo quindi in questo momento sono lì però non ci faccio operazioni long sopra perché mi sembra più lenta rispetto alle altre crypto che vi ho fatto vedere le mie preferite in questo momento Rune come lo sapete Near la sto cavalcando resta poi la questione legata a quelle che vi ho detto la scorsa settimana Waves in particolar modo è entrata diciamo e poi la mia Ethereum che ovviamente io lo tengo qui per un giochettino che dovrebbe esserci su Bitcoin va bene va bene allora per oggi è tutto super cripto bellissima questa criptovaluta bellissima questa fase anche a vedere con relazione con il Nasdaq vi ho detto un botto di informazioni cosa ne pensate qual è la vostra cripto preferita spesso io vi chiedo queste cose poi però mi pubblicate criptovalute ho sconosciuto progetti scam c'è pieno di scam sui miei canali ragazzi che pubblicano i nostri cloni tutti i youtuber ce l'hanno mi raccomando non date appresso a quello che vi scrivono non vi scriverò mai niente non vi scriverò mai via mail non vi dirò mai di investire in qualcosa mai 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 non mi lo dico sempre ragazzi quindi mi raccomando non vi fate frottare dagli scammeri purtroppo ci clonano i canali ci clonano Instagram mi hanno clonato Twitter lo fanno a tutti anche a The Crypto Gateway insomma che gli altri eccetera ci clonano non possiamo farci niente non dipende da noi dipende dalle piattaforme noi abbiamo provato in tutti i modi a bloccare non c'è verso va bene quindi state attenti a questa cosa noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti